Siamo alla pagina sportiva, ripartiamo dal Corriere dell'Umbria, siamo a Perugia, Vido è riemerso con una perla, bellissimo il gesto tecnico per il gol contro lo Spezia, non segnava su azione dal 2 settembre, l'ultima realizzazione risaliva il 4 novembre in casa del Livorno su rigore, Nesta lo ha aspettato. E poi il posticipo anche di Carmine a segno nel lunedì sera di Festa del Verona, la squadra di Grosso fa 3 a 1 col Pescara e va a meno 5 dal Palermo. Andiamo a parlare di volley, Superlega, Sir serve qualcosa di più al Palacoccia, è stato decisivo il servizio ma il primo set perso con Sora fa riflettere dai 9 metri, numeri impressionanti con Leone, Atanasievic e Mattatori però occorrono altre soluzioni. Torniamo al calcio, andiamo in Serie C, siamo a Terni, l'ora delle scelte, Fere c'è già retta nel ruolo di DS, Mister De Canio può vacillare in caso di risultati? No, la società punta sull'ex dell'Ascoli al posto di Pagni. E il Gubbio, missione Samba, ora va riscritta la storia, solo 3 successi al Barbetti negli 11 precedenti coi marchigiani, l'ultima vittoria ospite è della scorsa stagione, Maini già in città. E poi andiamo a parlare degli allievi, siamo a Trestina, 6 gol nella partita del debutto, vola Yuri Salis che è il CR6 del Trestina. Ancora in eccellenza, siamo a Spoleto, il fattore Ubaldi, lo Spoleto c'è, il bomber ha riaperto la lotta per il primo posto, ricordiamo c'è stato nello scorso fine settimana il derby col Foligno, è l'ago della bilancia, un pensierino dice lo faccio, per lui una doppietta al Foligno, ricordiamo classe 1999. Siamo a parlare di volley, Stambuco prima da record, Monti lo ha fatto esordire a 12 anni in a 2, pochi secondi è una battuta da ricordare, il palleggiatore dice un bellissimo regale che porterò sempre nel cuore, il tecnico della Monini ha detto a sfrontatezza, alla sua età non sarei arrivato ai 3 metri, è stato un premio. Andiamo a parlare di tiro al volo, campionato d'inverno, siamo a Massa Martana, il calendario è realtà, si parte il 4 gennaio, i presidenti delle società si sono ritrovati al TAV Umbria Verde. Andiamo al messaggero, la sua pagina sportiva, il calcio, grifo, melchiorri, stringe i denti, l'attaccante con il ginocchio in panna è costretta agli straordinari prima di fermarsi per curarsi bene durante la sosta invernale. Intanto la società riflette sull'arrivo di un centrale, la Samp rivorrebbe berre già a gennaio. Sir Conad pronti a vincere in Francia, torna il grande volley e poi per la serie C di calcio, Fere di Achitei, il primo epurato. Mentre la squadra è in ritiro al Garden, lui viene mandato allo stadio Liberati ad allenarsi da solo, diventando un caso. Il provvedimento punitivo, nato dopo una lite negli spogliatoi, la società Rosso Verde ha deciso di non rilasciare note ufficiali. E poi andiamo a Foligno, la forza dei nervi saldi. Il K.O. nel derby con lo Spoleto non fa paura ai Biancazzurri. Gorini è sereno, il campionato dice non si decideva domenica, conta stare avanti. Il regista tiene alto il morale dei suoi, abbiamo dimostrato di essere più forti dei nostri avversari. K.O. per una dormita. E poi a Spoleto, è sempre eccellenza Arcipreti, tiene tutti svegli, adesso dobbiamo stare attenti. E poi per l'Atletica, l'Atletica Taino, un anno da 13.000 km. Il bilancio di questa associazione per il regmi, Barton Kuss sconfitta contro la capolista. Andiamo all'inserto sportivo della nazione. Da Perugia Melchiorri a Singhiozzo, ma domenica ci sarà. L'attaccante costretta a stringere i denti in queste ultime tre partite per un problema al Perone. E poi intanto Umar Sadik, oggi la prima seduta con la squadra. Andiamo a Terni, Ternana in ritiro per rialzare la testa. Atomosfera calda in caso Rossoverde dopo il pareggio a Liberati. Gubbio, mercato e futuro, Maini si allena al Barbetti. In eccellenza Foligno la sconfitta è immeritata. Parla Gorini e ancora eccellenza lo Spoleto, che era l'alter ego del derby. Lo Spoleto può vincere con tutti. Parla Damaschi, soddisfatto del risultato del derby. La Sir Perugia, siamo al volley, sarà un mercoledì dal Leon. Domani torna la Champions, sfida in Francia. Monini, Spoleto senza freni. Vittoria è terzo posto. Mattia Rosso e Roberto Festi dicono adesso concentriamoci su Santa Croce. Questo era lo sport, come di consueto, la copertina del nostro meteo. Vediamo che giornata sarà quella odierna. Finalmente SEP c'è, il nuovo distributore di carburanti a mercato libero a Gubbio in Via dell'Arboreto. Una giornata fredda, ma tutto sommato asciutta. Questa è la giornata odierna, che si apre con cieli poco nuvolosi su tutto il territorio regionale. Avremo estese gelate con temperature negative di qualche grado sotto lo zero termico su tutte le pianure e le vallate della regione. Durante la giornata qualche nuvola in transito, ma non c'è il rischio di precipitazioni. Le temperature rimarranno fredde, sia nei valori minimi, anche in quelli massimi. In particolare le minime meno due un grado, ma in appennino le punte possono essere anche di meno quattro, sei. E le massime sono comprese tra i quattro e i sei gradi. È davvero tutto, allora grazie per averci seguito. A voi una buona giornata. A voi una buona giornata.